Ci colleghiamo con Massimo Profeta, che saluto. Buonasera Massimo. Sì, buonasera a te e a tutti gli amici in visione e all'ascolto, Paolo. Beh, insomma, c'è una notizia importante, se ne parlava ormai da settimane, perché era nel mirino delle Monache, Marco delle Monache, il baby di Cappelli sul Tavo, classe 2005, era nel mirino della Sampdoria, della Fiorentina, ma anche del Sassuolo. L'ha spuntata la Sampdoria, praticamente un'operazione virtualmente definita, sarà, diciamo, ratificata nelle prossime 24-48 ore a titolo definitivo Marco delle Monache alla Sampdoria, però quest'anno giocherà in prestito nel Pescara. La trattativa è stata, l'operazione è stata condotta dal Presidente Sebastiani e dall'Avvocato Romei, che è l'amministratore della Sampdoria, che portò alla Sampdoria proprio Lucas Torreira nell'estate del 2015. Dunque, Marco delle Monache sarà definito nelle prossime ore, 24-48 ore al massimo, la Sampdoria a titolo definitivo, ma per una stagione resterà in prestito alla Pescara. Per quanto riguarda le altre trattative, Alloi, una telenovela, potremmo dire così, Paolo, infinita. Oggi però il giocatore non si è allenato e quindi ci siamo, perché arriverà nelle prossime ore in prestito con diritto di riscatto dall'Avellino. Poi c'è anche il discorso di Craja, Craja che si voglia, il giocatore italo-albanese di proprietà dell'Atalanta, arriverà domani pomeriggio, anche questa è un'operazione di fatto definita in prestito secco, dunque dal club orobico. Boben invece arriverà questa sera, Boben è un difensore centrale sloveno ai tante, proviene dalla Ternana, formula prestito secco, un classe 94, giocatore possente di struttura, insomma giocatore di categoria. Per quanto concerne invece le altre trattative, trequartista è stato esfumato, Pasquale Maiorino che ha rinnovato di un anno con la Virtus Francavilla, non convince nel 4-3-1-2. Un altro giocatore che era stato attenzionato dal Pescara, vale a dire Alessio Curcio, classe 90 del Foggia, sempre calda invece per quanto riguarda questo ruolo, l'opzione Manzari che è di proprietà del Sassuolo, classe 2000 in prestito al Frosidone. L'attacco e concludiamo, non è sul mercato Alexis Ferrante, altro giocatore del Mirino della Pescara, lo scorso anno ha giocato nel Foggia, già di proprietà in realtà qualche anno fa del Delfino, in questo momento il cartellino della Ternana, si sta allenando con la squadra di Lucarelli, al momento non è sul mercato, se ne riparlerà eventualmente tra 15 e 20 giorni, se dovesse esserci un giocatore in uscita da parte della Ternana, ma piace tantissimo Vutai, questo è un nome nuovo, Vutai, lo ripeto, è un giocatore italo-albanese, un giocatore di cui abbiamo parlato negli ultimi giorni, ci sono conferme da parte di Delicarri, Vutai, pensa, Paolo ha segnato 34 gol in Serie D lo scorso anno, nel Novara in altrettante partite, ben 72 complessivamente, nelle ultime tre stagioni, appunto con Novara, Rimini e Campo d'Assego, Team Veneto, ed è proprio tutto, la linea può tornare a te.